1,2,3,3,4 1,2,3,3,4 Il piccolino di casa Duff, l'XB Il nuovo motore Packard da 4,5 litri 4 cilindri Euro 6 Alla guida c'è Lisa che ci accompagna in questo giro Vediamo la strumentazione completamente digitale E questo sistema di navigazione opzionale Fornito dal Packard, dalla Packard stessa Abbiamo degli specchietti tradizionali Eccoci a porto E' un Duff XB Con molte novità Tra le quali il nuovo motore Packard Da 6,7 litri Nuovo monocolocco in Giza Nuova testata in Giza Di graffite completata E praticamente tutte queste nuove modifiche Ho portato una diminuzione di peso di 600 kg in totale Questa è la versione più potente Da 310 cavalli E' un cambio da distribuzione Potete vedere la strumentazione completamente digitale Ci abbiamo le mirror camera Che proiettano sui schermi interni E adesso stiamo per affrontare un viaggio Con questo bellissimo XF Cisterna Una meraviglia di camion Ecco, vediamo qua i sistemi radar Questo Più da lontano Questo per gli ostacoli da vicino Questa è una trentina di metri Questa è 5 metri Per gli esseri umani Diciamo Vabbè, per tutti gli ostacoli vicini Poi questo sistema qua invece E' un radar che guarda 30 metri 30 metri indietro 7 metri in avanti E 10 metri di lato Ecco, stiamo partendo con il nostro XF da 450 cavalli Motorizzato Packard MX-11 Alla guida c'è William La planta Vedete qua? Il rock car Sì, il double morto Poi questo L'edizione di vita Quella estremamente Etonomica Comoda Portata di mano E finalmente siamo a bordo Dell'ammiraglia DAF Ecco qua Il magnifico XG Plus Con il massimo della potenza 530 cavalli 2700 newton meter In questa cabina Che è un piccolo appartamento Fantastica Sogno di tutti i camionisti Alla guida c'è Paul Un po' stupido estremamente confortevole Per l'altra posizione del buonante Adesso Un po' stupido Andiamo Un po' stupido Il miracolo Grazie a tutti.